Miledi e cavalieri, prendete posto alla tavola rotonda di Reward 2 e benvenuti e benvenuti, bentornati e bentornati qui ad una nuova puntata di Percy Jackson e il mare di mostri. Siamo vicini alla fine, eh? Siamo vicini alla fine, mancano solo due capitoli, compreso quello di oggi, quindi dopo questa puntata ci sarà un'altra puntata e avremo finito anche il secondo libro di Percy. Tireremo insomma alla fine, sapete che la fine mi sta un pochino derudendo rispetto a quello che era il mio parere iniziale sul libro, ma andiamo a vedere perché poi la vera, vera fine probabilmente cambierà le carte in tavola. Scusate se sto guardando un po' giù, ma è perché sto cercando il filo delle cuffie per alzare il volume, perché non sentivo niente della mia voce, dicevo ma sto registrando, quindi mentre vi dicevo tutte quelle cose nel mio cervello c'era ma sto registrando, sto registrando a quanto pare. Quindi avete sentito tutte le mie stupitaggine. Detto questo, mire dei cavalieri, cercherò di non muovermi perché se no la telecamera sfarfalla. Andiamo a leggere insieme Percy, rilassatevi, stendetevi se siete a casa, staccate il cervello un attimo, se mi state ascoltando la guida non distraetevi, però cercate, se potete, se siete in sicurezza, rilassarvi. Stacchiamo veramente il cervello da tutto, stacchiamolo insieme in realtà, e andiamo, andiamo a immergerci insieme in questo finale di storia e vediamo dove porta. Milady e cavalieri, andiamo a leggere insieme il capitolo 19. La corsa delle bighe finisce col botto. Arrivamo a Long Island, subito dopo Clarisse, grazie ai poteri dei centauri. Io viaggiai in groppa a Chirone, ma non parlammo molto, soprattutto non di Crono. Sapevo che era stato difficile per lui confidarmelo e non volevo insistere con altre domande. Cioè, avevo conosciuto un sacco di genitori imbarazzanti, ma Crono, il malvagio re dei titani che voleva distruggere la civiltà occidentale, beh, ecco, non era il genere di padre che invitavi a parlare del suo lavoro in classe. Quando arrivamo al campo, i centauri non vedevano l'ora di conoscere Dioniso. Avevano sentito dire che dava delle feste grandiose, ma rimasero delusi. Quando tutto il campo si riunì in cima alla collina Mezzosangue, il dio del vino non era dell'umore di festeggiare. Il campo ne aveva passate tante nelle ultime due settimane. La capanna degli arti era stata rasa al suolo dalle fiamme di un drago Aynonus, che da quanto mi riuscì di capire era la definizione latina di grosso lucertolone dal fiato esplosivo. Le stanze della grande casa traboccavano di feriti. I ragazzi della casa di Apollo, che erano i guaritori migliori, facevano gli straordinari al pronto soccorso. Quando ci radunammo attorno all'albero d'Italia, sembravano tutti distrutti. Nell'istante in cui Clarissa avvolse il vello d'oro al ramo più basso, il chiaro di luna sembrò farsi più luminoso, passando dal grigio all'argento liquido. Una fresca brezza arruffò i rami e fluì sull'erba, spostandosi verso la valle. Tutto divenne più nitido. Il bagliore delle luccele nel bosco, il profumo dei campi di fragole, il suono delle onde sulla spiaggia. A poco a poco, gli aghi marroni del pino cominciarono a tingersi di verde. Tutti esultarono. Stava accadendo lentamente, ma non c'erano dubbi. La magia del vello stava penetrando nell'albero, riempiendolo di nuova energia ed espellendo il veleno. Chirone ordinò un servizio in interrotto di guardia 24 ore su 24, almeno finché non si fosse procurato il mostro adatto a proteggere il vello. Disse che avremmo messo subito un annuncio sulla Gazzetta dell'Olimpo. Nel frattempo, Clarissa fu portata in spalla dai suoi compagni fino all'anfiteatro, dove ricevette la corona dall'oro e si codette i festeggiamenti attorno al fuoco. Nessuno fece caso a me e ad Annabeth. Era come se non ce ne fossimo mai andati. In un certo senso, immagino che fosse il ringraziamento migliore. Se avessero ammesso che eravamo fuggiti dal campo per compiere l'impresa, avrebbero dovuto espellerci. E davvero, non avevo bisogno di più attenzioni. Per una volta, ero solo uno dei tanti ragazzi del campo e mi stava bene così. Più tardi, quella sera, mentre arrossivamo i Marshmallow sul fuoco e ascoltavamo i fratelli Stoll che ci raccontavano una storia dell'orrore, quella di un re malvagio sbranato vivo da pasticcini demoniaci, Clarissa mi tirò da dietro alle spalle e mi bisbigliò all'orecchio. «Solo perché sei stato in gamma una volta, Jackson. Non penserai che Ares voglia lasciarti in pace. Sto ancora aspettando l'occasione giusta per polverizzarti». Le risposi con un sorriso ostentato. «Che c'è?» domandò. «Niente», risposi. «Solo che è bello essere a casa». L'indomani mattina, dopo che i partiponi furono ripartiti per la Florida, Chirone fece un annuncio sorpresa. Le corse delle bighe sarebbero continuate come da programma. Ci aspettavamo tutti che ormai fosse l'acqua passata, dopo che Tantalo non c'era più. Ma finire le corse sembrava la cosa giusta, soprattutto adesso che Chirone era tornato e che il campo era al sicuro. Tyson non moriva dalla voglia di tornare su una biga dopo la nostra prima esperienza e fu contento di lasciarmi fare squadra con Annabeth. Io mi occupavo della guida, Annabeth della difesa e Tyson ci avrebbe fatto da meccanico ai box. Mentre io lavoravo con i cavalli, Tyson aggiustò la biga di Atena e aggiunse tutta una serie di nuove modifiche. Passammo i due giorni successivi ad allenarci da matti. Io e Annabeth concordammo che, in caso di vittoria, avremmo diviso il premio di un mese di libertà dei turni di servizio fra le nostre due case. Dal momento che i ragazzi di Atena erano più numerosi, avrebbero avuto più tempo libero e per me andava bene. Il premio non mi interessava, volevo solo vincere. La sera prima della corsa, rimasi fino a tardi nelle stalle. Stavo parlando con i cavalli, strigliandoli per l'ultima volta, quando qualcuno alle mie spalle disse «Begli animali, cavalli, vorrei averci pensato io». Appoggiato alla porta, c'era un tizio sulla quarantina, vestito da fattorino. Era magro, con i capelli neri e ricci sotto il casco coloniale bianco e aveva una borsa portalettere sulla spalla. «Ermes», balbettai. «Ciao, Percy. Non mi riconoscevi senza il mio completo da jogging?» «Ehm, non sapevo cosa fare. Se dovevo inginocchiarmi o comparare le francoboglie o non so che altro». Poi intui il perché della sua visita. «Oh, ascolti, divino Hermes, a proposito di Luke». Il dio inarco le sopracciglia. «Ehm, l'abbiamo visto, sì, ma...» «Non sei riuscito a farlo ragionare?» «Beh, ecco, abbiamo cercato di ucciderci in un duello mortale». «Capisco. Hai provato l'approccio diplomatico. Mi dispiace tanto. Cioè, lei ci aveva dato quei bellissimi legali e tutto, e so che voleva che Luke tornasse, ma è diventato cattivo. Parecchio cattivo. Ha detto che si sente abbandonato da lei. Mi aspettavo che Hermes si arrabbiasse. Immaginai che mi trasformasse in un criceto o qualcosa di simile, e io non avevo nessuna voglia di trascorrere dell'altro tempo come eroditore. Ma lui si limitò a sospirare. Ti senti mai abbandonato da tuo padre, Percy? Oh, cavolo. Avevo voglia di rispondere solo qualche centinaio di volte al giorno. Non parlavo con Posedone delle state prima. Non ero mai nemmeno stato nel suo palazzo sott'acqua. E poi c'era tutta la storia di Tyson. Nessun preavviso, nessuna spiegazione. Solo, boom, hai un fratello. Uno si aspetterebbe di meritarsi almeno una telefonata di avvertimento o roba del genere. Più ci pensavo, più mi montava la rabbia. Mi resi conto che in realtà desideravo un riconoscimento per l'impresa, ma non dagli altri ragazzi del campo. Volevo che mio padre dicesse qualcosa, che mi notasse. Hermes si aggiustò la borsa a portalettere sulla spalla. Percy, la parte più difficile dell'essere una divinità è che spesso devi agire in modo indiretto, soprattutto quando si tratta di figli. Se dovessimo intervenire ogni volta che hanno un problema, beh, non faremmo altro che aumentare i problemi e il risentimento. Ma credo che, se ci rifletti, ti accorgerai che Poseidone ti ha seguito con attenzione. Ha risposto alle tue preghiere. Posso solo sperare che un giorno Luke lo capisca e possa dire la stessa cosa di me. Anche se ti sembra di non aver ottenuto nulla, hai comunque ricordato a Luke chi era. Mi hai parlato. Ho cercato di ucciderlo. Hermes si strinse nelle spalle. Le famiglie sono un disastro. Nelle famiglie immortali sono un disastro eterno. A volte, il meglio che possiamo fare è ricordarci l'un l'altro che siamo parenti, nel bene e nel male, e cercare di limitare al minimo le mutilazioni e le stragi. La ricetta della famiglia perfetta? Certo. Ma del resto, ripensando alla mia impresa, mi resi conto che forse Hermes aveva ragione. Poseidone aveva mandato l'Ippocampia ad aiutarci. Mi aveva conferito dei poteri sul mare che ignoravo prima di allora. E poi c'era Tyson. Possibile che ci avesse fatto incontrare di proposito? Quante volte Tyson mi aveva salvato la vita nel corso dell'estate? In lontananza, risonò la conchiglia del coprifuoco. Dovresti andare a letto, mi suggerì Hermes. Ti ho già aiutato a cacciarti in sufficienti guai per quest'estate. In realtà, sono venuto solo per una consegna. Una consegna. Sono pur sempre il messaggero degli dei, Persi. Tirò fuori un taccuino elettronico dalla borsa e me lo passò. Firma qui, per favore. Solo dopo aver raccolto lo stilo, mi accorsi che c'erano due serpenti verdi intrecciati sopra. Ah! Mi cade dalle mani. Ai! Si lamentò George. Sono serio, Persi? Mi rimbrottò Marta. A te piacerebbe cadere sul pavimento di una stalla? Oh, scusate! Non mi piaceva molto toccare i serpenti, ma raccolsi il taccuino e lo stilo. Marta e Giorgio si avvilupparono sotto le mie dita e formarono una specie di impugnatura come quella che mi faceva usare il mio insegnante di sostegno da piccolo. Mi hai portato un ratto? Chiese George. No, risposi. Non ne abbiamo trovati. È un porcellino d'India? George! Lo rimproverò Marta. Non prendere in giro il ragazzo! Firmai e riconsegnai il taccuino a Hermes. In cambio, lui mi passò una busta azzurra come il mare. Mi tremavano le dita. Prima ancora di aprirla, sapevo che era di mio padre. Avvertivo il suo potere in quella fresca carta azzurra come la busta fosse stata plasmata con un'onda dell'oceano. Buona fortuna per domani, disse Hermes. Hai una bella coppia di cavalli, ma mi scuserai se faccio il tifo per la mia casa. E non scoraggiarti troppo quando la leggerai, caro, aggiunse Marta. Lui ha davvero a cuore i tuoi interessi. Che vuoi dire? Chiesi. Non badare a lei, intervenne George. E la prossima volta ricorda, i serpenti lavorano per le mance. Basta voi due, sbottò Hermes. Addio, Percy. Per ora. Due piccole ali bianche spuntarono ai lati del suo casco coloniale. Cominciò a brillare e ormai ne sapevo abbastanza sull'idea da capire che dovevo distogliere lo sguardo prima che Hermes rivelasse la sua vera forma divina. Con uno scintillante lampo di luce bianca sparì e io rimasi solo con i cavalli. Fissai la busta azzurra. L'indirizzo era scritto in una calligrafia energica ma elegante che avevo visto già una volta su un pacco che Posidone mi aveva inviato l'estate prima. Percy Jackson, Collina Mezzosangue, Farm Road 3141, Long Island, New York. Una vera lettera da parte di mio padre. Forse mi diceva che ero stato bravo a recuperare il vello. Forse mi avrebbe spiegato di Tyson o si sarebbe scusato per non essersi fatto vivo prima. Quante cose speravo di trovarci. Apri la busta e spiegai il foglio. Due semplici parole erano stampate al centro della pagina. Tieniti forte. Il mattino dopo tutti parlavano eccitati della corsa anche se continuavano a lanciare in alto delle occhiate nervose quasi aspettandosi di vedere gli uccelli di Stinfalo che si raguduravano a frotte. Non ne comparve neanche uno. Era una bellissima giornata estiva con il cielo azzurro e un sacco di sole. Il campo aveva cominciato a riprendersi. I prati erano verdi e lussureggianti. Le colline bianche scintillavano sugli edifici greci. Le ninfe giocavano felici nel bosco. E io ero uno straccio. Ero rimasto sveglio nel letto tutta la notte pensando all'avvertimento di Poseidone. Tieniti forte. Insomma, uno si prende la briga di scrivere una lettera e ci mette solo due parole. Il serpente Marta mi aveva avvisato di non scoraggiarmi. Forse Poseidone aveva un motivo per essere così vago. Forse non sapeva di preciso da che cosa mi stesse mettendo in guardia ma sentiva che stava per succedere qualcosa di grosso. Qualcosa che poteva farmi sbarellare a meno che non fossi pronto. Era difficile però cercai di concentrare tutti i miei pensieri sulla corsa. Mentre io e Annabeth ci portavamo sulla pista non potei fare a meno di ammirare il lavoro che Tyson aveva fatto sulla biga di Atena. Il cocchio scintillava di rinforzi di bronzo. Le ruote erano riallineate con una sospensione magica perciò filavano lisce e senza scossoni. L'imbracatura era così perfettamente bilanciata che i cavalli svoltavano al minima tirata di redini. Tyson ci aveva forgiato anche due giavellotti ciascuno con tre pulsanti sull'asta. Il primo innescava il giavellotto in modo che esplodesse nell'impatto liberando un cavo affilato in grado di imbrigliare e spezzare le ruote dell'avversario. Il secondo produceva una lancia di bronzo spuntata ma comunque molto dolorosa pensata per spingere la origa avversario fuori dalla biga. Il terzo pulsante faceva fuoriuscire un grappino d'ancoraggio che si poteva usare per agganciare la biga avversaria o per allontanarla. Pensai che eravamo in ottima forma per la corsa ma Tyson mi mise lo stesso in guardia. Le altre squadre nascondevano un sacco di assi sotto la toga. Tieni! Disse poco prima dell'inizio della corsa. Mi passò un orologio da polso. Non aveva niente di speciale solo un quadrante bianco e argentato e un cinturino di cuoio nero. Non appena lo vidi mi resi conto che era il progetto cui aveva armeggiato per tutta l'estate. Di solito non mi piaceva portare l'orologio. Chi se ne importava dell'ora? Ma non potevo dire di no a Tyson. Grazie amico! Lo indossai e scoprì che era sorprendentemente leggero e comodo. Non mi accorgevo quasi di portarlo. Non l'ho finito in tempo per il viaggio! Borbottò. Scusa, scusa! Ehi amico, non fa niente! Se avrai bisogno di protezione durante la corsa mi consigliò premi il pulsante del cronografo. Ah, ok! Non capivo a cosa potesse servirmi tenere il tempo ma mi commosse la sua preoccupazione. Mi promisi che me lo sarei ricordato. Ehi, ehm... Tyson! Mi guardò. Volevo dire... Beh... Cercai di capire come potevo scusarmi per essermi vergognato di lui prima dell'impresa per aver detto a tutti che non era mio fratello. Non era facile trovare le parole. So che cosa mi vuoi dire mi interruppe lui imbarazzato. Poseidone si è occupato di me dopo tutto. Oh, beh... Ha mandato te ad aiutarmi proprio come avevo chiesto. Strizzai gli occhi. Avevi chiesto a Poseidone di trovare me? Avevo chiesto un amico rispose Tyson stropicciandosi la maglietta con le mani. I giovani ciclopi crescono da soli per le strade imparano a costruire le cose dai rottami imparano a sopravvivere ma è una crudeltà. Lui scosse la testa serio. Così apprezziamo i doni impariamo a non diventare ingordi cattivi e grassi come Polifemo. Ma io avevo tanta paura. I mostri mi inseguivano sempre. Qualche volta mi attaccavano. Le cicatrici sulla schiena? Gli salì una lacrima dall'occhio. Una sfinge sulla settantadubesima. Grosso bullo. Ho pregato papà di aiutarmi e dopo un po' quelli della Mary Weather mi hanno trovato e ho incontrato te. Il dono più grande. Mi dispiace quando ho detto che Poseidone era cattivo. Mi ha mandato un fratello. Fissai l'orologio che Tyson aveva costruito per me. Persi! Gridò Annabeth. Vieni! Chirone era sulla linea di partenza pronto a suonare la conchiglia. Tyson! Cominciai. Dai! Mi incitò lui. Vincerete! Io? Sì, ok campione. Vinceremo per te. Salì a bordo della biga e mi portai in posizione un attimo prima che Chirone desse il segnale d'inizio. I cavalli sapevano cosa fare. Balsamo in pista con così tanta foga che se ne è caduto se non avessi avuto le retini intrecciate alle braccia. Annabeth si teneva forte al parapetto. Le ruote filavano a meraviglia. Imboccammo la prima curva a un'intera lunghezza di distanza da Clarisse che era impegnata a respingere un attacco di giovellotto dei fratelli Stoll sulla biga di Hermes. «Gli abbiamo superati!» gridai ma avevo parlato troppo presto. «Arrivano!» gridò Annabeth di rimando. Lanciò il primo giovellotto in modalità grappino da ancoraggio respingendo una rete carica di piombini che ci avrebbe intrappolati entrambi. La biga di Apollo si era affiancata alla nostra. Prima che Annabeth potesse armarsi di nuovo il guerriero di Apollo scagliò un giovellotto sulla nostra ruota destra. Il giovellotto si infranse ma non prima di aver distrutto un paio di raggi. La biga sobalzò e ondeggiò. Ero sicuro che la ruota non avrebbe retto ma in qualche modo riuscimmo a proseguire. Incitai i cavalli ad accelerare eravamo ormai in un testa a testa con Apollo. Efesto ci stava le calcagna. Ares ed Hermes erano indietro correndo fianco a fianco con Clarisse e Connor Stoll impegnati in un duello di spade e giavellotto. Un altro colpo alla ruota e ci saremmo ribaltati lo sapevo. «Siete finiti!» ci gridò l'auriga di Apollo. Era un ragazzo del primo anno. Non mi ricordavo come si chiamava ma di certo sapevo il fatto suo. «Sì, come no!» gridò Annabeth di rimando. Raccolse il secondo giavellotto un vero rischio considerando che mancava ancora un giro intero e lo scagliò contro la biga di Apollo. Aveva una mira perfetta. Il giavellotto colpì l'auriga in pieno petto con la punta smussata della lancia scaraventandolo contro il suo campagno e facendo volare entrambi fuori dalla biga con una capriola all'indietro. Con l'allentarsi delle redini i cavalli impazzirono slanciandosi verso la folla. Mentre il pubblico correva al riparo i cavalli saltarono l'angolo delle gradinate rovesciando la biga dorata e continuarono a galoppare verso le stalle tracinandosela dietro. Riuscì a tenere insieme la nostra biga anche alla seconda curva nonostante i gemiti della ruota destra. Passammo la linea di partenza e iniziammo il nostro secondo giro. L'asse cicolava e gemeva. La ruota indebolita si stava facendo perdere velocità anche se i cavalli rispondevano ad ogni mio comando correndo come una macchina ben oliata. La squadra di Efesto stava ancora guadagnando terreno. Beckendorf sorrise spingendo un pulsante sulla plancia. I suoi cavalli meccanici spararono dei cavi d'acciaio che si avvolsero attorno al nostro parapetto posteriore. La biga sussultò quando l'argano di Efesto entrò in azione e cominciò a tirarci indietro mentre Beckendorf veniva tirato in avanti. Annabeth imprecò ed estrasse il coltello. Cercò di mozzare i cavi erano troppo spessi. Non riesco a tagliarli gridò. La biga di Efesto adesso era pericolosamente vicina e i suoi cavalli stavano per calpestarci. Facciamo cambio propose ad Annabeth prendi le redini ma fidati di me. Si portò davanti e afferrò le redini. Io mi voltai sforzandomi di non perdere l'equilibrio e tolsi il cappurcio a vortice. Sferrai un colpo e i cavi si spezzarono come lo spago di un aquilone. Balsammo in avanti ma la riga di Efesto aveva appena portato la biga alla nostra sinistra accostandosi a noi. Beckendorf sfoderò la spada. Menò un fendente in direzione di Annabeth ma io lo parai. Ci stavamo avvicinando all'ultima curva non ce l'avremmo mai fatta. Dovevo neutralizzare la biga di Efesto e toglierla di mezzo però dovevo anche proteggere Annabeth. Solo perché Beckendorf era un bravo ragazzo non voleva dire che non ci avrebbe spediti entrambi in infermeria se abbassavamo la guardia. Eravamo testa a testa ormai con Clarisse che si avvicinava alle nostre spalle recuperando il tempo perduto. Ci vediamo Percy gridò Beckendorf eccoti un regalino d'addio. Ci lanciò un sacchetto di pelle che si appiccicò all'istante sul pavimento della biga e cominciò a emanare del fumo verde. Fuoco greco urlò Annabeth imprecai avevo sentito parlare di quello che il fuoco greco era in grado di fare e pensai che nel giro di una decina di secondi saremmo saltati in aria. Gettalo via gridò Annabeth ma non potevo farlo. La biga di Efesto era ancora al nostro fianco aspettando fino all'ultimo secondo per accertarsi che il regalino esplodesse. Beckendorf mi teneva occupato con la spada. Se avessi abbassato la guardia il tempo necessario a sbarazzarmi del fuoco greco lui avrebbe affettato Annabeth e ci saremmo schiantati lo stesso. Cercai di allontanare il sacchetto di pelle a calci ma non ci riuscivo aderiva al pavimento. Poi mi ricordai dell'orologio. Non sapevo come poteva aiutarmi però riuscì a piggiare il pulsante del cronografo. L'orologio si trasformò all'istante. Il bordo roteò verso l'esterno come l'otturatore di una vecchia macchina fotografica. Una fascia di cuoio si avvolse attorno al mio avambraccio e tutto l'orologio si espanse finché non mi ritrovai in mano uno scudo da guerra rotondo largo più di un metro con l'interno di pelle e l'esterno di bronzo levigato scolpito con dei disegni che non ebbe il tempo di esaminare. Sapevo solo una cosa Tyson ce l'aveva fatta. Sollevai lo scudo e la spada di Beckendorf ci cozzò contro. La sua lama si infranse. Cosa? gridò Come? Non ebbe il tempo di dire altro perché lo colpì in pieno petto con il mio nuovo scudo e volò via dalla biga atterrandone il fango. Stavo per usare vortice per colpire l'auriga quando Annabeth gridò Persi! Il fuoco greco stava sparando scintille. Infilai la punta della spada sotto il sacchietto di pelle e tirai su come se fosse una spatola. La bomba incendiaria si staccò e volò nella biga di Efesto ai piedi dell'auriga. Il ragazzo strillò. Nel giro di mezzo secondo l'auriga fece la scelta giusta. Si tuffò fuori dalla biga che si allontanò sbandando ed esplose fra le fiamme verdi. I cavalli di metallo andarono in cortocircuito. Si voltarono e trascinarono il rottame infuocato verso Clarisse e i fratelli Stoll che dovettero deviare per evitarlo. Annabeth tirò fuori le redini per affrontare l'ultima curva. Io mi teni forte sicuro che ci saremmo capovolti ma in qualche modo le riuscì a evitarlo e spronò i cavalli oltre alla linea del traguardo. Il pubblico esultò con un boato. Quando la biga si fermò i nostri amici ci si affollarono attorno. Cominciarono a gridare i nostri nomi ma Annabeth urlò più forte di tutti. Aspettate! Ascoltate! Non siamo stati solo noi! La folla non si calmava però Annabeth si fece sentire lo stesso. Non ce l'avremmo mai fatta senza qualcun altro. Non avremmo potuto vincere questa corsa né recuperare il vello o salvare Grover. Dobbiamo la vita a Tyson! Il mio fratellino! Conclusi forze in modo che tutti mi sentissero. Tyson arrossì. La folla esultò. Annabeth mi stampò un bacio sulla guancia e il boato si fece ancora più forte. Tutta la casa di Atena issò Annabeth. Tyson e me sulle spalle e ci trasportò sul podio del vincitore dove Chirone ci aspettava con le corone dall'oro. E finisce qui il capitolo 19 che essendo il penultimo capitolo del libro mi lascia un po' stranito nel senso che ho adorato ma veramente adorato tutto il discorso della non sotto trama in realtà ma tutto il il filone familiare diciamo così perché qui l'autore in realtà ci dà un bel messaggio ci fa capire che le famiglie sono tutte complicate tutte tutte la famiglia del mulino bianco non esiste sostanzialmente in tutto ci sono i problemi in tutti ci sono i litigi i scontri e quant'altro e come dice Hermes a volte ci si può solo ricordare che si è parenti l'un l'altro nonostante magari ci si provi anche il risentimento però però poi il fatto il messaggio che ne esce fuori è questo che a volte anche in quei litigi anche in quegli scontri in realtà poi ci lega un legame che è molto molto più profondo di quanto uno potrebbe immaginare è molto bella questa cosa ed è molto bella mi ha proprio colpito non so se si è notato durante la lettura ma la storia di Tyson perché Percy è stato molto egoista prima pensa dice Poseidone io sono risentito nei suoi confronti perché non mi ha manco detto niente di Tyson che cacchio non mi poteva avvisare che avevo un fratello e poi invece scopriamo che è Tyson che ha fatto una preghiera a Poseidone di trovare un amico qualcuno quella cosa mi ha molto colpito veramente mila e cavaliere è stata molto quasi commuovente Tyson è veramente un bel personaggio era solo praticamente abbandonato a se stesso voleva solo un amico e gli è stato tra virgolette donato un fratello molto bella questa cosa ed è molto bello che Percy capisca il valore di Tyson come l'ha capito Annabeth e considerate che Annabeth odiava i ciclopi quell'ultima frase che Annabeth urla dopo aver vinto la corsa della big sì delle big non è casuale Annabeth odia i ciclopi era sempre stata restia nei confronti di Tyson anche lei riconosce il valore di Tyson e Percy non si vergogna più di avere un fratello ciclope e anche questo è un bel messaggio del libro per farci capire che non per forza che è diverso da noi è cattivo da allontanare nel mondo di Percy i mostri sono malvagi Tyson è a tutti gli effetti un mostro ma è buono quindi ci insegna il libro in realtà che non bisogna giudicare un libro dalla copertina che è una persona non si può definire quello che è in base alla sua provenienza la sua razza una persona va giudicata per quello che è se è buona è buona a dispetto di qualsiasi altro elemento se è cattiva è cattiva e questo è un bel insegnamento in realtà il capitolo ha tanti ha dei bei messaggi devo essere sincero e secondo me il libro ruota veramente non secondo me il libro ruota tutto attorno a questo sulla famiglia perché c'è Hermes abbiamo la contrapposizione Hermes e Luke Luke si è sentito abbandonato e ha raggito male per dire un efemismo Percy anche si sente abbandonato dal padre però non ha raggito così male ma soprattutto capisce che forse è lui a volte che non sa accogliere i segni dell'aiuto del padre perché il padre gli ha mandato l'ippocampi gli ha dato dei poteri sull'acqua l'ha aiutato tutti gli effetti in questa impresa è bello è bello come questa dinamica familiare sia sia stato il filo rosso di tutto il libro e come in questo penultimo capitolo effettivamente non giunge a conclusione ma una bella un bel messaggio una bella una bella morale una bella morale ecco questo mi è piaciuto tanto come appunto il fatto di non giudicare le persone dalla copertina il fatto che Tyson sia un ciclope non vuol dire in automatico che è cattivo infatti Tyson non lo è Polifemo lo era sono entrambi ciclopi quindi non vuol dire che se uno è cattivo tutti i ciclopi sono cattivi come non vuol dire che se uno è buono tutti i ciclopi sono buoni gli esseri viventi come anche gli esseri umani per traslare poi tutto nel nostro mondo vanno giudicati in base alle loro azioni non a quello che sono o a a quale a quale razza appartengono cioè si giudica singolarmente perché non vuol dire che se esiste una persona cattiva allora tutti sono cattivi cioè è stupido pensare così è veramente stupido e il libro ce lo fa capire in maniera divertente in alcuni punti anche in maniera seria perché la storia di Tyson alla fine è abbastanza commovente e quindi e questa cosa mi è piaciuta non mi è piaciuto una cosa però è il penultimo capitolo del libro in realtà se io non avessi già le copertine pronte quindi sapessi già che sono 20 i capitoli del libro leggendo questo capitolo non mi aspetterei che il capitolo dopo il libro si concluda perché è un capitolo sì per carità bello si tira un po' ma non si tira in realtà nessun filo si fa questo discorso sulla famiglia ma della ciccia proprio della trama principale della chiusura sì c'è questo ammonimento di Poseidone che ammetto visto che il capitolo si intitolava la corsa delle biglie finisce col botto credevo succedesse qualche colpo di scena qualcosa alla fine mi ero creato un'aspettativa e soprattutto quando ho letto la lettera di Poseidone ho detto qui Gartacicova probabilmente coverà tra virgolette nel prossimo capitolo o nell'ultimo me lo aspettavo alla fine di questo per poi avere appunto un ultimo capitolo col botto e concludere bene il libro vediamo vediamo però ecco questo ecco questo capitolo forse il 19 riassume un po' tutta la mia esperienza con il libro del mare di mostri di Percy Jackson da una parte mi è piaciuto tanto perché ripeto questo capitolo tutta quella tematica di cui ho appena parlato a me è piaciuta tantissimo e dall'altro mi lascia sempre un po' meh è strano è un rapporto conflittuale dove il primo mi ha entusiasmato praticamente tutto e quando sono entrato io nell'ottica giusta del libro perché all'inizio ricordate che dicevo eh non è epico però il libro non vuole essere epico sono entrato io nell'ottica giusta e l'ho apprezzato in questo gioie e dolori potremmo dire aspettiamo il prossimo capitolo anche se ripeto la parte della descrizione della famiglia dal fatto che non si giudica nessuno dalla copertina mi è molto molto piaciuto e mi ha molto colpito detto questo mila dei cavalieri io voglio sapere voi che cosa ne pensate voglio quindi sotto nei commenti tanti commenti discutiamo insieme del capitolo e vi aspetto quando ci accomoderemo la prossima volta sempre qui alla tavola rotonda di Reward 2 alla prossima mila dei cavalieri grazie a tutti